No, per così. Fermate, no! Ma come è? Mannaggia, l'incrocio di col strano. Ma è possibile che questo è un deficiente? Ma perché? Ma per così? Si toglie per così, no? Per così o per così? Mannaggia, ma così si toglie per così? Per te, così? Che te? Quella taglia? Con le ricette, amma. Con le ricette, amma. Fermate, ma non perché ho d'entrata. Ma è possibile che sono due ore? Che ti dico? Che la tagliate qui? E stai per dire? No, prepotente, che gli è papata? Fermate! Mannaggia, stronzo, stronzo. Stronzo, managgia la maria. Gesù mio, ma mi dice che un nipote è stronzo così? Che non capisce niente!